Il Comune di Riva del Garda ha approvato il progetto esecutivo di un nuovo tratto ciclopedonale in via Grez, dal ponte sul torrente Albola alla chiesetta di Sant'Anna e per un tratto di via Italo-Marchi con contestuale sistemazione del marciapiede. La nuova ciclopedonale ha una lunghezza di 320 metri. Il tracciato si trova lungo l'angolo nord-est dell'area di proprietà di ITEA, la quale ha già provveduto d'intesa con il Comune di Riva del Garda e nel corso dei lavori per la ricostruzione delle ultime palazzine alla costruzione del muro di recinzione dell'area di proprietà, arretrandone il posizionamento della larghezza necessaria per la pista ciclopedonale. I lavori prenderanno il via entro l'autunno.